Sopraluogo del comune dei vertici dell'OIACP sul cantiere di Viale Europa, dove sono in corso i lavori di realizzazione di 20 nuovi alloggi interamente finanziati dall'OIACP per un importo di 3 milioni di euro. I tempi stimati sono 600 giorni dall'avvio, quindi dovrebbero essere ultimati a novembre del 2014, ma la ditta di Partinico che si è giudicata ai lavori sta procedendo con un mese e mezzo di anticipo rispetto al cronoprogramma. Dire che l'ufficio tecnico è relazionato positivamente sull'andamento dei lavori che proseguono in maniera celere, il progetto consiste in due corpi di fabbrica, uno già è avanzato in realizzazione, l'altro è stata realizzata la fondazione e l'armatura dei pilastri del piano terra. Alloggi realizzati con fondi interamente dell'OIACP? Sì, praticamente per quanto riguarda il blocco che vediamo là in fondo, già parzialmente costruito, era originariamente finanziato con i fondi statali. A suo tempo l'impresa ha abbandonato il cantiere e è stata necessaria un'integrazione del finanziamento che abbiamo reperito con fondi nostri, che poi sono quelle delle vendite di alloggi. Un altro blocco identico, altri vendite di alloggi invece sono interamente finanziati da noi, perché avevamo un'area assegnata a suo tempo dal comune, residua rispetto agli interventi che avevamo già realizzati e che non era mai stata finanziata. La ditta procederà su due fronti, la realizzazione di 20 nuovi alloggi e il completamento di altri venditi già esistenti a suo tempo finanziati dallo Stato per una montata di 2 milioni di euro. Siamo in anticipo notevolmente rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma. Io credo che siamo con un mese e mezzo di anticipo rispetto a quello che era stato previsto. Dovrebbero essere una decina di operai che stanno lavorando. Siamo bloccati attualmente, perché se no potrebbero essere anche di più, per la seconda palazzina, perché abbiamo una linea aerea dell'Enel che impedisce l'elevazione della struttura. Il comune di Vittoria intanto non sta con le mani in mano, ma sta lavorando a creare una rete di solidarietà. Sarebbe un risultato eccezionale poter utilizzare l'agrodotoria e dare una risposta a 40 famiglie bisognose con una casa dell'OIACP. Nel frattempo il comune di Vittoria e la rete della solidarietà che è stata recentemente istituita ha predisposto un manifesto per chiedere la disponibilità dei proprietari di case che non vengono utilizzate, che sono in affitto, perché si dia questa disponibilità al comune. Il comune potrebbe intervenire, interverrà con piccole opere di manutenzione o con un'integrazione del fitto sociale.